Castelli Massimo, sindaco di Cerignale, comune del Piacentino, 119 abitanti, un milione di alberi. Dentro questa suggestione c'è il racconto del mio comune, comune che si è spopolato nel corso degli ultimi 50 anni, ha perso più dell'80% della popolazione, però dentro questo milione di alberi c'è il futuro, c'è la possibilità di ricreare su questi territori, come in tutta la montagna italiana, come in tutta la marginalità italiana, questa grande capacità appunto di rappresentare le esigenze del futuro, che saranno legate all'ambiente, saranno legate ai cambiamenti climatici. Cerignale cosa fa in questo contesto? Cerignale si è concentrato per esempio sul portare il proprio tasso di carbonio a zero, ha realizzato due impianti idroelettrici sull'acquedotto del comune, sta realizzando un impianto fotovoltaico su una struttura che ha della Proloco, e soprattutto sta cercando di rappresentare ai propri cittadini quanto sia importante, cercare di mantenere i consumi e soprattutto cercare di non sprecare. Questa ricerca di comunità, di socializzazione, si è concretizzata per esempio recuperando degli spazi comuni che erano tipici della cultura contadina delle nostre montagne. Ecco, dentro questo ragionamento di recupero della cultura e della tradizione del territorio in chiave di modernità e di sviluppo futuro, abbiamo tutto il tema della comunicazione, per cui noi abbiamo questi scrigni bellissimi, questi paesi, questi borghi, mi viene da dire come se li tenessimo in tasca, che nessuno li può vedere. Con la digitalizzazione, con la banda larga, con le nuove tecnologie, abbiamo la possibilità di rappresentare al mondo queste bellezze. Qui non dobbiamo assolutamente aver paura delle nuove tecnologie, soprattutto legate alla comunicazione. L'abbinamento, tradizioni, cultura, ambiente, territorio e capacità di comunicare al mondo queste bellezze, queste potenzialità, forse c'è la chiave di sviluppo futuro non solo per questo territorio, ma addirittura per la nostra intera nazione. Noi dobbiamo invertire assolutamente questo trend, paradossalmente questa equazione assurda che dove dice meno abitanti, meno servizi, meno servizi, ancora meno abitanti. Ecco, dentro questo paradigma purtroppo distruttivo c'è la fine della montagna italiana, c'è la fine del territorio come elemento invece dove dobbiamo andarci a reinvestire. Dobbiamo cambiare questa cultura, dobbiamo cambiare questa politica, dobbiamo vedere in questi territori quello che sarà nel futuro. Noi siamo certi che nel 2050 sarà così attraente vivere in una grande metropoli, siamo sicuri che sarà veramente quello che vogliamo per i nostri figli e per i nostri nipoti, siamo certi che questo sia il futuro. Ecco, io dico invece che il futuro è anche in questi territori. Noi siamo molto orgogliosi delle nostre tradizioni, siamo molto orgogliosi da chi siamo e da cosa vogliamo rappresentare. E naturalmente non ci snaturiamo, ma vogliamo che le tecnologie ci diano una mano per conservare ancora di più questi valori. In ANCI e in altri ambienti come sindaci stiamo lavorando per far capire questo, questo patrimonio inestimabile che rischia, se non stiamo attenti, se non gli diamo comunicazione, se non diamo servizi, di perderlo per sempre. Io quando sento che ogni giorno purtroppo in Italia muore un piccolo paese, mi dico ma muore un piccolo paese cosa vuol dire? Vuol dire perdere un formaggio, vuol dire perdere una tradizione, vuol dire perdere un segno identitario della nostra nazione. Perché? Questa frase non la dico io, ma l'ha detta il nostro grande presidente Carlo Azzeglio Ciampi, perché banalmente l'Italia è un paese fatta di paesi. Se ci perdiamo i paesi, ci perdiamo l'Italia. Il fatto di vivere in un piccolo paese ti dà la possibilità di esprimere al meglio la personalità e quello che sei. È chiaro che anche in questo caso le opportunità derivano dal fatto che quello che siamo e quello che possiamo essere, i nostri valori devono poter essere espressi con quello che ormai è il veicolo, diciamo l'autostrada del futuro, che è l'autostrada del digitale, l'autostrada dell'informazione, l'autostrada della connessione, insomma tutto quello che noi siamo e che possiamo fare lo dobbiamo comunicare. Come buone prassi, come capacità di stare insieme, dobbiamo dare questo messaggio. Naturalmente, vivendo il borgo, anche noi come elemento di grande modernità, di stare lì e ripensare come potremmo riprendere dei lavori, come potremmo fare delle attività, naturalmente chiedendo alle amministrazioni di essere in condizione di poterle fare. Ecco, il borgo deve diventare l'incubatore del futuro. Con la comunicazione, la possibilità di esportare le idee, di esportare il lavoro, si ha la possibilità di creare non la Silicon Valley che c'è già, ma la valle del futuro e della modernità. Ringraziamo sicuramente Eolo in primis, che appunto ha, se vogliamo, lanciato questo sasso nello stagno e ha lanciato un sasso molto grande, che fortunatamente sta creando delle onde molto evidenti nel mare dell'indifferenza e siamo certi che queste onde torneranno indietro con dei grandi risultati. E mi viene da dire, noi ok, smart city, ma noi vogliamo anche le smart land. Grazie a tutti.